Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video A profitto di questo momento in cui non sono propriamente disintegrato Per andare a registrare come di consuetudine il consueto recappone di ogni 3 giorni Lo so ragazzi, chiedo venia, però comunque ci sono tante liste Se io lo facessi magari uno a settimana serve il panico Però ovviamente lo faccio solo quando vengono portate delle liste Se magari in una settimana non c'è stato le profile o non ci sono molti eventi Ovvio che non lo porto Comunque vediamo che cosa fanno i nostri amici dell'Ocg Che, Konami, hai esagerato un po' con l'anno del fuoco Cioè hai fatto un qualcosa che è un po' esageratino Un po' esageratino Prima di iniziare ragazzi come sempre invito a scrivere i nostri canali Prima di essere sempre aggiornati, l'iscrizione ci aiuta tantissimo Grazie mille ragazzi Chiedo scusa se tossiscono Raga, io ho un problema con la tosse Da 47 anni io tossisco ogni due secondi E non riesco a finire le frasi Quindi sarà Chiedo veramente venia Mi tratterrò il più possibile Allora, primo posto Fuoco Rescue Ace Continua a fare a cazzotti con gli altri mazzi Che bello Non vedo l'ora che arriva Bonfire pure qua E ciao Sarà il panico Comunque Se continua così Per forza noi la conosciamo all'Ucg Com'è Inizia a bandire di tutto e di più Se continua a fare così Bandisce tutto Fire King e tutto Rescue Ace In tre secondi Pendulum Magician con l'Electromite Oratamente carino l'Electromite Io ce l'ho ancora Secret Lì dentro l'album Non è che io giochi tantissimo i mazzi Pendulum Però sai Sapere di averlo insomma E di poterlo utilizzare Drago Bianco Rescue Ace Sono simpatico come un calcio nei canini E poi abbiamo Snake Eye Come quarto posto Snake Eye che si sta Ogni tanto si Defila Tra i mischioni che ci sono E fa top Quindi anche Snake Eye Diventa abbastanza forte Sempre con l'accel sicuro Come avevo visto anche l'altra volta Quindi bene 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 Direi bene insomma Poi Mazzumoto Ocg Snake Eye Che culo Però allora Però io devo ammettere Che a me piace molto Questa end trap Perché vai a fare negate Di mostri Avocado Special E poi fai anche danno da burn Sì Sono quelle piccolizze Che Gradisco Lancia è anche molto giocata Come possiamo vedere Poi abbiamo Centurion Dogmatica Il che Ci sta Ci sta La cosa brutta È che ti va a loccare L'Extra poi Con Nadir Se l'attivi Però insomma Boh Poi andiamo avanti Comunque E senti Non rimane un mazzo Che se la spigne Chissà che cosa abbiamo qui Rescue Ace Che continua ovviamente A fare dopo Abbiamo Ritual Beast Tra i 4 mazzi Che sono usciti A Terminal World Qualcosa hanno fatto tutti Ad eccezione Dell'ultimo Che doveva fare il panico Con il Link Ftk Non sta facendo niente Vediamo Allora Questa è una cosa Molto brutta Questo è ovviamente Il torneo 2 contro 2 Però Cioè Raga Se vuoi vedere Se vuoi vedere Cioè No Insomma Vabbè che vabbè Che io Comunque A me piacciono Questi tipi di mazzi Con tutto l'odio Che poi ovviamente Mi viene tirato addosso Quando li utilizzo Che ci sta Però 2 contro 2 Beccassi 2 RunicStan Quindi Primo posto RunicStan Pendulum Magician Che questo C'ha Giusto Quella Postilla Del Vabbè Uno c'ha Runic L'altro c'ha Pendulum Poi Abbiamo Snake Eye E un Silent Force Silent Force Si conferma Grande Mazzo Del meta Rescue Ace Salaman Great Per non farci Mancare nulla Per quanto riguarda I mazzi Fuoco Colosseo Qui si dice Anche Colosseo Kaiser Che non so Perché da noi È bandito Cioè Una carta Forte Però c'è la mina mistica Cioè Quindi Insomma E poi il doppio RunicStan Che Non è che sono uguali Come quelli dell'altra volta Magari Perché Sapete che Che mi tocca rifare Il mebbe di utobi No eh Mi pare che Qualche cosina Sia comunque diversa Ok Poi abbiamo Che voti che ha fatto Nei che hai Primo posto Ritual Beast Secondo posto Cioè Fire King Snake Eye Ritual Beast Secondo posto Quindi Ritual Beast Occhio Allora In realtà Vi direi anche Occhio Soprattutto A Infernoid Appunto Ora c'è Il Pendulum Magician Che continua a menare Pendulum Magician Attenzione Ma soprattutto Attenzione A Infernoid Attenzione A Infernoid Questo gioca In Phantasmade Di Main Io direi Molta attenzione A questo deck Perché Quando uscirà qua Secondo me Qualche cosina Se la va a portare A casa Sono un po' Convinto di questo In realtà È una strana Sensazione Che c'ho Teniamo tutto D'occhio Può essere che sbaglio Perché io voglio A te che se sbaglio Lo sapete Però Teniamo d'occhio Poi Abbiamo Snake Eye Anche Questo qui Si Di scosta Abbiamo pure Il secondo posto Pure lì Questo c'ha un pochino Più di Di trappole Rispetto agli altri Un terzo posto Pernaturia Horus Che viene utilizzato Molto spesso In realtà Abbiamo Salamagret Quarto posto Ok Salamagna Comunque fa le sue robe Fire King Snake Eye Giustamente Infernoide Snake Eye Interessante Ve lo dico Ve l'ho detto Labyrinth Labyrinth Sia in OCG Che in TCG Ogni tanto Esce fuori Nembrelia Snake Eye Questo gioca anche Gli Evoltile Gioca anche Degli Generator Di Nembrelia C'ha In Nembrelia C'ha 7 8 carte E tutto il resto È altro Però Nembrelia Snake Eye Generator Molto interessante Direi Occhio anche A questo tipo Di liste Occhio Nembrelia Mazzola Che a me piace Veramente tantissimo Poi Abbiamo Red QA Snake Eye Primo posto Infernoide Dogmatica Secondo posto Con Fusione Oscura Attenzione Con Fusione Oscura Ragionando Tutto il resto Questa era Un bevare Transaction Rollback Anche qui si usa Può essere interessante Come meccanica C'è anche un'altra Decide Anche le spade Rivelatrici Le trappoline Del film Mi pare Ritual Beast Che conferma Comunque Di essere un mazzo Che è entrato Comunque Nel meta E Snake Eye Fire King Ovviamente Poi Stavolta Sempre doppio Stavolta Abbiamo Naturi Aorius E Rescue Ace Che vanno A chiudere Molto interessante Perché comunque C'hai un mazzo Che ti va a fare Neggetti importanti Che blocca Loppo E in più C'è questo Che ti setta 77 carte Sul terreno Quindi è interessante Come Come strategia Tecnico Tattica Poi abbiamo Snake Eye E lo next Hand Che io Non consiglio Di utilizzare Da noi Non perché Magari Perché ci sarà Tanto odio Contro chi L'utilizza Una cosa brutta In realtà Tutto questo odio Però capisco Che magari Dei mazzi Dando completamente Fastidio In una maniera Incredibile Così come a me Da molto fastidio Dragon Link A molti Dando fastidio Questi mazzi Che comunque Non ti permettono Di giocare Poi Abbiamo Silent Force Dogmatica E Salaman Great E poi Abbiamo Salaman Great Con Blackwing Horus Scelta interessante Scelta interessante Anche perché Con gli Horus Ti vuoi prendere Un pochino Di boost Interessante Perché comunque I blackwing Purtroppo Sono Carini Cioè Non sono neanche Troppo malaccio Però ovviamente Nel gioco competitivo Non trovano Il loro Spazio Fa qualcosa Di interessante Poi vabbè Il vortice nero Mi sta sul cazzo In una maniera Incredibile Tutte robe Suggettive Tutte fai Interne Che Ha in finita Il gioco Non so nulla Però comunque È una lista Interessante Possiamo prendere Spunto Con una troll Una sola Una sola Perché Che foffio Vabbè Più che altro Può essere Anche target Di Di Crossout Poi Abbiamo Fire King Snake Eye Primo posto Ritual Beast Ancora Con il secondo posto Ritual Beast Vicchia Come è andato Pure il terzo posto E Silent Force Quarto posto Silent Force Sempre una lista Abbastanza classica Questo gioca Antispell Antispell Non so se Pure gli altri Lo giocano Forse non ho fatto Abbastanza attenzione Però Interessante Andiamo a vedere Un piccolo Reportino Tecnico tattico Allora Non mi ricordo Se questo Allora Prima hanno fatto Hanno fatto vedere Questo qui Comunque si Come possiamo far vedere Rescue Ace E Fire King Sono i più forti Come abbiamo potuto Constatare anche Con le liste Snake Eye Da solo Comunque Fa le sue top Ritual Beast Secondo me Sale un pochino Lo metterei Oddio In realtà Abbiamo visto Pendle Magician Che le robe le fa L'abbiamo visto Silent Force Le robe le fa Pure lì Fa qualche top interessante Però magari Forse qui Non lo so Ci può stare Però forse Ci può starci Anche un grandino sotto Poi abbiamo Labyrinth E Infernoid Snake Eye E forse io farei Il contrario Invece Se proprio Ne devo mettere 4 Scambierei Loro 2 Ritual Beast Infernoid Al momento Però c'è una buona Sensazione Per Infernoid Runic Stun La c'è aperta Salamangrete Sta facendo Qualche cosina in più Abbiamo Horus Nature Qualcosa fa Horus Branded E poi abbiamo Lignister Madmash Che in realtà Non l'abbiamo Non l'abbiamo visto Nelle Nelle liste E poi L'hanno Aggiornato Al momento Infatti Vedete Cioè Vedete Nel senso Ho detto Forse scambio E poi Inferno Vado Vengo Smentito Subito Vengo Confermato Super Non c'è Una via Di mezzo Poi Lanciende Che comunque In realtà Abbastanza Sparito Poi abbiamo Salmangrete Novox Ok Questa Molto più Restrittivo Però Come Confermano È Fondamentalmente Un Formato Di Mostri Fuoco Porca Puttana Se Non è Formato Di Mostri Fuoco Dopo Tutti I supporti Che Gli hanno Buttato Giù Vorrei Vedere E poi Andiamo A vedere Un Torneino Molto Interessante Perché Io vi Dico Che lo Bandano Snake Fire King Rescue O Bandano Qualcosa Di Snake Eye Come Engine Perché Non è Sopportabile Perché Lo Dico Primo Posto Snake Eye Fire King Secondo Posto Rescue Ace Snake Eye Terzo Quarto Posto Sinful Spoils Snake Eye Fire King Tutti C'ha Mesi Sinful Spoils Snake Eye Fire King Sinful Spoils Cioè Quanti Fire King 1 2 3 4 5 Ci Stanno 8 Fire King Cioè La Metà So Fire King Poi Abbiamo Horus Centurion Abbiamo Silent Force Centurion Exorc Sister Che Andando A parare Il Graveyard Comunque Ci sta Grass Branded Vankish Soul E pure Lì H Completamente A caso Cioè No Completamente A caso Però L'abbiamo Visto Insomma E qui Ci sono Anche Le altre Profile Come Possiamo Vedere Con Sinful Spoils Tutel Resto Si giocano Soltanto L'Impermanence Come Trappolina Qui Abbiamo Snake Eye Rescue Ace Horus Senturion Comunque Un Grande Classico Mamma mia Sinful Spoils Fire King Quando arriva Bonfire Da noi La fanno Sigret Sicuro E Poi Silent Force Che Comunque È Un Mazzo Molto Molto Dignitoso Col Fatto Che Comunque C'ha Pure Qualche Problemino Magari A Partire Secondo Infatti Qua Si Gio Che Ci Stanno Assolutamente Infatti Questo Non Gioca Neanche In Ladir Per Non Andarti A Bloccare La Loc Di Extra Buono 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 Infatti Qualche Cosina Secondo Serve Assolutamente Però Comunque Dignitosissimo E se La lotta Ammazzo 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 Fatto Bene 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 E Poi Abbiamo Anche Sentry Non Sempre Con Gommatica Che Comunque Confermano Di Trovare Sinergia E Poi Exorcister Che Comunque Exorcister Interessante Potrebbe Vedere Colosseo Kaiser Di Side Che Io Sarei Molto Curioso Di Vedere Anche Qui Sono Veramente Curioso Di Vedere Anche Qui Il Colosseo Kaiser Ma Ma Veramente Tanto Comunque Queste Erano Le liste Diciamo Che Possiamo Confermare Quello Che Hanno Fatto Vedere Sul Questo Qua Praticamente Questi Qui Possiamo Confermarli Per Quello Che Abbiamo Visto Detto Questo Comunque Ragazzi Fatemi Sapere Voi Cosa Ne